la sveglia si evviva un altro giorno che bello che bello che bello non vedo l'ora di giocare con il mio giocattolo me l'hanno regalato proprio ieri una nuova bambola via la vado a prendere eccola qua guardate come carina l'ho anche fatta cadere beh ma tanto è una bambola non si fa mica male e lei ve la presento si chiama ecco lì non ho potuto scegliere il nome perché ha già un nome si chiama haidi io non vedo l'ora di giocare con lei adesso gli vado a fare un bel bagnetto dai haidi vai qui dentro oh non ho il sapone lo vado a prendere ai 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 che dolore ma sarà che mi deve buttare così nella vasca da bagno non sono mica un giocattolo io come faccio adesso ai 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 sta tornando eccomi qua con il sapone sapone acqua hanno preso l'asciugamano vado sta affogando aiuto un po di respiro che disastro non so come fare lei pensa che sono un giocattolo ma io sono una bambina aiutatemi sta tornando ecco 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 ho preso l'asciugamano adesso ti tiro fuori da lì ecco fatta amore di mamma vieni che ti vado a mettere un po a dormire ok stai qui è mamma ti verrà a svegliare via oh mamma mia mamma mia è andata via vediamo che paura ah finalmente è andata via aiuto come faccio io che disastro fra un po mi affogava nella vasca da bagno e quando mi ha messo l'asciugamano ormai non respiravo più come faccio uscire da questa situazione adesso uffa aiuto sta tornando andiamo a vedere se si è svegliata beh non ci sarà svegliata da solo un giocattolo la vado a svegliare io oh ma io ti avevo messo dall'altra parte chi è che ha spostato la mia bambola sicuramente sarà passato orso e ha voluto giocare con la mia bambola uffa facciamola dormire ancora un altro pochino dai aidi ti vengo a prendere più tardi eh mascia mascia che è che mi chiama mascia dai scendi siamo noi olie giulia oh le mie amiche sono arrivate non vedo l'ora di presentarli la mia nuova bambola oh no delle amiche di mascia chissà che cosa mi faranno anche loro sono disperata ciao amiche che bello vedervi lo sapete che ieri al mio compleanno ho ricevuto una bellissima bambola non vedo l'ora di presentarvela una bambola oh sì sono proprio curiosa di vederla oh sì anche io mascia mi piacciono tantissimo le bamboline dai faccela vedere ok ve la vado a prendere oh vieni qua che ora che ti presenta le mie amiche via ecco ecco ragazze eccola guardate come carino bellina questa bambolina ma anche di di familiare giulia cosa dici te fammela vedere un po meglio ma quella mascia ma e haidi ah sì come fai a saperlo aveva il suo nome dentro la scatola infatti non l'ho potuto scegliere comunque sì si chiama haidi oh lì c'è un problema quella non è un giocattolo e haidi è una bambina che viene dai monti ma come è finita nelle mani di mascia eh ragazza arrivo eh devo andare un attimo in bagno eh arrivo subito oh grazie al cielo meno male siete arrivate voi ma mi conoscete ah vedi oli te l'avevo detto io ciao haidi certo che ti conosciamo almeno io ti conosco tu vieni dai monti sì è successo un casino hanno sbagliato mi hanno spedito a me dovevano spendere una bambolina e mi hanno scambiato per lei e sono arrivata a casa di mascia ma che disastro prima mi ha fatto il bagnetto ormai stava affogando oh povera Heidi oh non ci posso credere che disastro e adesso come facciamo a dirgliela la mascia adesso ci penso io non vi preoccupate oh meno male grazie grazie e tu sei? ah sì che maleducata io mi chiamo Giulia piacere di conoscerti e io mi chiamo Olly oh sono molto contenta di conoscervi meno male che siete arrivate voi sta tornando sta tornando oh eccomi scusate che che mi scappava eeeh mascia ti dovremmo dire una cosa ah sì che cosa? ecco c'è un piccolo problema è un problema con la mia bambola ecco sì appunto eeeh quella non è una bambola ma cosa vorresti dire? mascia quella non è una bambola è una bambina è una bambina come noi una bambina una bambina eeeh sì eeeh ciao io sono Heidi ma tu parli cammini ma sei un giocattolo molto molto evoluto e no mascia io non sono un giocattolo io sono una bambina mi chiamo Heidi non è un giocattolo ecco perché non capivo ti avevo messo nel letto e ti eri spostata dall'altra parte pensavo che era stato orso e no ero stata io mi sono mossa eeeh oh mi dispiace mi dispiace di averti delusa tu ti aspettavi una bambola ma cosa stai dicendo ho trovato un'amica un'altra amica ragazze abbiamo un'altra amica è molto meglio di una bambola oh meno male masha che hai capito non sapevamo come dirtelo oh si masha pensavamo che saresti rimasta delusa ma delusa di cosa abbiamo una nuova amica di nome Heidi sono troppo contenta uff mi è andata bene meno male dai ragazze andiamo a giocare oh si 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 dai andiamo a giocare a nascondino si 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 che bello che bello wow io ancora non ho mai giocato a nascondino non vedo l'ora via andiamo ciao ciao ciao